Tre settimane ancora poi la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legge elettorale per accogliere o meno il ricorso contro l'attuale Porcellum a dubbio di costituzionalità per il premio di maggioranza abnorme garantito al primo arrivato. Ma in Parlamento anche oggi ho nulla di fatto sulla riforma più evocata e meno praticata degli ultimi anni. Ci vorrebbe un briciolo di responsabilità, ripetuto ancora stamattina al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, poche ore prima che la Commissione Affari Costituzionali del Senato si spaccasse e bocciasse l'ordine del giorno del Partito Democratico a favore di un sistema doppio turno. Esito scontato, ma avevamo deciso di tenere il punto, dice la Presidente PD Anna Finocchiaro. Tenere il punto, mettere i bastoni tra le ruote a Renzi e lasciare campo libero alla consulta, dicono i sostenitori del Sindaco e il probabile prossimo segretario democratico, che nelle stesse ore impegnato in una diretta web conferma che presenterà a breve la sua proposta, modello Sindaco d'Italia, altro che Super Porcellum o Porcellinum per sfangare la consulta del 3 dicembre dall'alto là a Renzi. In ballo c'è anche l'ipotesi estrema di un decreto del Governo. La legge elettorale in materia parlamentare è un decreto problematico, a meno che non sia il Parlamento a chiederlo, non lo esclude del tutto il Ministro delle Riforme Gaetano Quagliariello. Decreto si ipotizza per alzare fino al 40% la soglia necessaria a ottenere il premio di maggioranza e di questi tempi, con nessuno capace di tanto, significherebbe il ritorno al proporzionale. Sono certo che ci siano i numeri in Parlamento per evitare il proporzionale, perché? Perché il proporzionale oggi significa la legittimazione permanente dell'argentese. Siamo in un sistema bicamerale, al Senato potrebbe non passare la riforma a Renzi, avverte irritata Anna Finocchiaro. Subito rimbrottata a muso duro da Renziano Giacchetti, sistema bicamerale con maggioranze diverse, fa notare. Sarà perciò che la Finocchiaro ha brigato per scippare la legge alla Camera ed avviarla al Senato, dove non sarebbe mai partita. Una scelta politica per stare fermi.